vengo al motivo del mio primo messaggio rivolto in particolare ai nostri soci allievi che è il seguente perché è utile cantare e suonare insieme nell'orchestra della nostra scuola a parte la dimensione umana che farebbe di tale esperienza già un'unicità in orchestra si può mettere in pratica ciò che si è studiato da soli con il proprio insegnante all'interno di un organismo complesso che cresce in quanto crescono tutti i partecipanti molte volte gli allievi nella pratica in solitaria si auto convincono della bontà delle loro azioni sonore in gruppo si deve trovare un respiro ritmico melodico dinamico che sia un minimo comune cioè quel collante che ci permetta di stare insieme utilizzando la musica si deve passare da un piano soggettivo definito egocentrismo musicale dove non riesco a sentire ciò che succede intorno a me perché troppo impegnato a risolvere i miei problemi interpretativi ad una fase di apertura agli altri dove l'altro mi è d'aiuto vogliamo pensare in grande coscienti e sapendo di lavorare in ambito educativo aiutando l'allievo ad uscire dalle aree di confort che si è costruito e che in un ambito linguistico come il nostro è controproducente come ultimo esempio vorrei accennare a come si può imparare una lingua straniera ammettiamo l'inglese al di là di tutti i supporti moderni vale ancora il fatto che per apprendere al meglio questa lingua un buono e lungo soggiorno in gran britagna sia ancora la cosa migliore e comunque linguaggi si imparano per assorbimento imitazione comparazione osservazione dei nostri colleghi dei maestri eccetera eccetera è evidente che per suonare insieme si deve avere il coraggio di provarci la scuola vivace offre ai nostri iscritti la possibilità di vivere questa esperienza all'interno di due orchestre acustica ed elettrica si imparano cose molto utili e ci si accorge che cambiando il contesto cambiano anche le nostre abilità musicali ora stiamo preparando il concerto di natale non abbiamo molto tempo per eseguire il concerto abbiamo bisogno della tua adesione consapevole cioè una tua iscrizione passando per la segreteria e di conseguenza una partecipazione le prove nel rispetto di tutti è un salto di qualità per quanto riguarda il tuo percorso di studio musicale non tutte le scuole musicali ti offrono questa possibilità che per noi è fondamentale provate non abbiate paura